Appuntamento sabato con l'Aperistreet, un evento sempre molto partecipato, quale sarà il programma? Allora, sabato dalle ore 21 in cui, va bene, piazza Martiri partirà il Tour Aperistreet. Tour Aperistreet che parte proprio da Teramo perché ha un significato importante. Teramo diciamo che è stata la piazza dove si è consolidato il marchio Aperistreet. Per poi arrivare anche ad Ascoli perché il 21 maggio saremo nella piazza del popolo Ascoli. Il format sarà sempre lo stesso, quindi con l'aperitivo servito in piazza abbiamo per fortuna tutti i tavoli prenotati, migliaia di persone e la cosa più bella è che arrivano da due regioni, quindi sia da Abruzzo che dalle Marche, quindi abbiamo tanti prenotati da Ascoli, da San Benedetto, Chieti, Pescara ed è una grande soddisfazione. Il format della musica è sempre il nostro, quello di Franceschi e Leventi con la musica Revival 70-80. Assessore, un evento che a questo punto diventa importante per i commercianti vista la crisi? Sì, lo è sempre stato la Aperistreet, torna a Teramo dopo l'ultimo appuntamento del 2 maggio dell'anno scorso. Questo porta naturalmente un vantaggio alla città perché Marcellini porta a Teramo gente anche da fuori provincia e quindi non tutti verranno a mangiare alla Aperistreet, qualcuno come è sempre successo mangerà nei ristoranti di Teramo, comprerà nei negozi di Teramo perché molta gente che viene alla Aperistreet viene a Teramo dal pomeriggio e quindi credo che questo sia importante sabato sera dalle 21 in piazza Martiri. Grazie. Grazie.